Un cordiale saluto, ben ritrovati. Nuova edizione del Tg Abruzzo. Sesso in cambio del superamento degli esami. Nuova indagine sulla scuola della Guardia di Finanza dopo quella avviata per la denuncia di stupro che è stata presentata da un allieva. Ascoltiamo il servizio. Prestazioni sessuali proposte in cambio del superamento degli esami al corso per sotto ufficiali della Guardia di Finanza. E' il nuovo filone di indagine aperto dalla procura dell'Aquila dopo quello sullo stupro denunciato a fine maggio da un allieva della scuola per ispettori e sovrintendenti a Coppito. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la ragazza potrebbe essere stata solo una delle vittime prese di mira dal gruppo di quattro capitani istruttori trasferiti dal comando generale in altre sedi. Solo uno di loro indagato per violenza sessuale e lesioni aggravate. Gli altri, che con lui condividevano una chat con commenti che dimostrerebbero come fossero a conoscenza degli abusi, sono invece accusati di maltrattamenti. Lo stupro, secondo la denuncia della ragazza di cui riferisce il messaggero, sarebbe durato pochi minuti e la vittima sarebbe riuscita a fuggire approfittando di una telefonata che avrebbe distratto il suo aggressore. Gli smartphone sono stati acquisiti, il loro contenuto esaminato. Sul caso, indaga la finanza presso la quale l'allieva ha presentato denuncia, insieme con la squadra mobile aquilana. A Roma, invece, c'è un'inchiesta della procura militare. Già nei giorni scorsi, gli avvocati difensori dell'ufficiale indagato si sono detti fiduciosi sull'esito dell'indagine e anche d'accordo con il suo trasferimento. Rientrata dalla Germania, la bambina sottratta nel Chietino fu rintracciata lo scorso 3 luglio collocata in una struttura protetta. Ascoltiamo allora quelli che sono gli aggiornamenti nel servizio di Matteo Porfiri. È rientrata in Italia la bambina di 8 anni che la madre aveva sottratto lo scorso 25 maggio alla nonna a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, portandola con l'autobus in Germania. Il 3 luglio scorso la polizia tedesca, che ha operato in stretto coordinamento con la squadra mobile di Chieti, l'aveva rintracciata a Duisburg arrestando la mamma ed affidando la bambina ai servizi sociali della città tedesca. In Germania, a riprenderla, si è recato il curatore speciale, l'avvocata Monia Scalera, espressamente incaricata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila della riconsegna della minore da parte dell'autorità tedesca. Secondo quanto disposto dal giudice, la bambina, una volta in Italia, deve essere immediatamente collocata in una struttura protetta con tassativo di vieto di avvicinamento per i familiari. In occasione dell'arresto della madre, che era inseguita da un mandato di arresto europeo per aver violato l'obbligo di dimora, cui era sottoposta per fatti legati al possesso di stupefacenti commessi a San Giovanni Teatino due mesi prima, erano stati arrestati anche la cognata della donna e il suo compagno. I due devono scontare rispettivamente oltre 18 anni di reclusione per reati di droga e 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Il mandato di arresto europeo era stato richiesto dal procuratore capo della Repubblica di Chieti, Giampiero Di Florio, che ha coordinato l'intera inchiesta seguita alla sottrazione della minore. È morto a Chieti, all'età di 88 anni, il dottor Tiziano Bellelli, psichiatra e protagonista della vita sociale e culturale teatina, padre del procuratore capo della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli. Sposato e padre di quattro figli, ha lavorato al centro di salute mentale di Chieti come specialista ambulatoriale, dove ne ricordano la preparazione e il carattere riservato, ed era iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Chieti dal 1969. Fu tra i fondatori dell'associazione Chieti Nuova 3 febbraio, nata nel 1993 all'indomani dell'esplosione della Tangentopoli Teatina, associazione che negli anni ha organizzato convegni e incontri sul tema della legalità nelle scuole in ambito cittadino. I funerali si svolgeranno mercoledì 31 luglio alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio a Chieti. Protesta in carcere a Pescara e detenuti illustrano quelle che sono le critici. Tave le riassumiamo nel servizio di Matteo Porfiri. Protesta nel carcere di Pescara nell'ambito delle mobilitazioni che si stanno registrando in tutta Italia. I detenuti, una volta nell'area passeggio comune per circa tre ore, nel primo pomeriggio di ieri si sono rifiutati di entrare in cella per manifestare contro la situazione che si registra a livello nazionale, e in particolare nella casa circondariale del capoluogo adriatico. L'emergenza è rientrata dopo l'arrivo di Gianmarco Cifaldi, professore universitario di criminologia e già garante dei detenuti di regione Abruzzo. Nel carcere di San Donato al momento ci sono 431 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 260 unità. Cifaldi ha dapprima parlato con tutti i detenuti nel passaggio comune, poi si è confrontato con una delegazione a condizione però che tutti gli altri rientrassero in cella. L'esperto ha garantito ai presenti che avrebbe rappresentato il loro disagio direttamente agli organi di stampa, numerose le criticità elencate dai detenuti e poi riferite da Cifaldi, detenuti psichiatrici che convivono con le sezioni e non sono assistiti dal punto di vista sanitario, una mancanza di assistenza a causa della quale spesso devono essere gli stessi detenuti a difendere gli agenti dai soggetti psichiatrici. Sovraffollamento oltre ogni limite possibile, alcuni detenuti dormono perfino nei corridoi, programmi per trattamento inesistenti, mancanza di lavoro, pochi turni per i colloqui, ma anche assenza di ogni forma di solidarietà da parte delle associazioni di volontariato che entrano in carcere, caldo insopportabile oltre ogni limite, cucina non in grado di garantire una dignitosa distribuzione alimentare, mancanza nell'ultimo periodo di acqua per le docce a causa dell'emergenza idrica, più in generale i detenuti descrivono una situazione di bomba ad orologeria. Salvato un turista dall'annegamento è accaduto a Termoli, ad entrare in azione tra gli altri anche l'eroe del sisma, il giocatore del rugby, Dario Pallotta. Sentiamo. L'altruismo e il senso civico sono nel suo DNA. Ancora un salvataggio per l'eroe del sisma, Dario Pallotta, 38 anni, dipendente di banca e giocatore dell'Avezzano Rugby, che nel pomeriggio di lunedì 29 luglio non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua per tirar fuori dal mare agitato di Termoli un villeggiante di mezza età trascinato a largo dalle correnti. «Stavo pranzando all'Idola Perla, spiegato, quando ho sentito dei fischi, mi sono avvicinato alla riva e ho visto un uomo in difficoltà oltre gli scogli. Mi sono tuffato insieme a un'altra persona, l'abbiamo raggiunto e portato a riva, sostenuti da vicino ad alcune bagnine dello stabilimento arrivate con il pattino». Durante il sisma in Abruzzo, il 6 aprile 2009, Pallotta aveva salvato due persone dalle macerie e per quel salvataggio aveva poi ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia di bronzo al merito civile. «Erano le 14, spiega, quando ho visto l'uomo in evidenti difficoltà. Non ho avuto nessuna esitazione, mi sono tuffato di corsa. Con me anche Pasquale Dell'Ido Mistral. Lo abbiamo raggiunto a nuoto e trascinato di forza nuotando controcorrente. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta». Con i due giovani sono entrate in mare per il soccorso le due bagnine dell'Idola Perla e altre due esperte di salvataggio del vicino stabilimento arrivate a bordo di un pattino. Due ragazze si sono tuffate in mare per aiutare i due soccorritori a nuoto e altre due sono rimaste a bordo dell'imbarcazione per supportare il salvataggio. Pallotta, aiutato dall'altro giovane, lo ha trascinato verso la riva. «La corrente era forte, ha spiegato, ma durante il soccorso mi sentivo in grado di farcela e per questo si è deciso di trascinarlo in mare evitando di farlo salire sul pattino. Tutto fortunatamente è andato bene grazie al supporto di quanti sono intervenuti». E siamo all'Aquila, via libera all'assestamento di bilancio 2024-2026. Il Consiglio Comunale approva la manovra da 17,5 milioni. Matteo Porfiri. Il Consiglio Comunale dell'Aquila ha approvato l'assestamento generale di bilancio 2024-2026. Lo strumento prevede una manovra complessiva di circa 17,5 milioni di euro. Illustrando il provvedimento in aula, l'assessore alle politiche finanziarie e economiche di bilancio, Raffaele Daniele, ha precisato che la gran parte delle entrate, oltre 11 milioni, riguardano quelle in conto capitale grazie per lo più agli interventi messi in campo dall'Amministrazione Comunale e sostenuti dal PNRR. In particolare si tratta dei nuovi asili nido nelle frazioni di Paganica e Sassa e della realizzazione di un parcheggio nell'ex Caserma Rossi. A questo importo si aggiungono 3 milioni di euro per le riparazioni dei danni agli edifici causati dal sisma del 6 aprile 2009, oltre i 600 mila euro per la vendita di terreni e beni immobili. Gli oltre 14 milioni provenienti da tali trasferimenti verranno tutti impiegati, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, sia per finanziare i progetti ammessi nell'ambito dello stesso PNRR, sia per ulteriori sistemazioni dei danni del terremoto di 15 anni fa. Con tre emendamenti sottoscritti dal sindaco Pierluigi Biondi, approvati dal Consiglio, sono stati inseriti nel bilancio anche circa un milione di euro per progetti di digitalizzazione e interventi di edilizia scolastica sul territorio. Tre consiglieri presenti in aula, a favore del provvedimento, hanno votato in 17 Fratelli d'Italia, Lega, L'Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi, Udc. In 5 invece hanno votato contro, il passo possibile, L'Aquila Coraggiosa, L'Aquila Nuova, 99 L'Aquila. Il Consiglio ha inoltre approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'istituzione Centro Servizi Anziani, via libera all'unanimità anche all'ordine del giorno, primo firmatario Paolo Romano dell'Aquila Nuova, con il quale l'amministrazione comunale viene impegnata a intervenire per integrare e rendere ancora più efficace il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E siamo al calcio, quello di serie D, il Teramo diviso tra mercato e i due allenamenti congiunti previsti in settimana, le ultime nel servizio di Giussi Cingoli. È una settimana densa di appuntamenti, quella che è appena iniziata per il città di Teramo, atteso da due doppie sedute e da altrettanti test congiunti non ufficiali. L'Asticella si alzerà gradualmente, prima affrontando mercoledì 31 luglio alle ore 17 il Mosciano, eccellenza, quindi sabato a Roccaraso, sempre alle 17 contro la Casertana, Lega Pro. Sul fronte mercato, il città di Teramo, entro la prossima settimana, è intenzionato a completare la Rosa, con il difensore già in prova con il Diavolo, Leonardo Ascani, classe 2005, dal settore giovanile dell'Atalanta, e il teramano Leandro Di Giacomo, esterno di centrocampo, classe 2008, un giocatore ben strutturato per la categoria, nonostante la giovane età. Ascani potrebbe essere il cambio Andri in difesa di Menna, mentre Di Giacomo dovrebbe entrare nelle rotazioni degli esterni e rappresenta sicuramente un investimento per la società. Entrambi potrebbero essere tesserati in settimana. Il teramo segue anche con attenzione l'attaccante portoghese Caco Ortigao Sgaria, di 24 anni, punta centrale, che potrebbe dare il cambio a Galesio. Per il discorso abbonamenti, si attende ancora un po' per avere qualche aggiornamento sul discorso Gaetano Bonolis. E con il TG Abruzzo ci fermiamo qui. Grazie per la vostra cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi della Rete. Arrivederci.